Edder, Mech, Pallister. I medici hanno constatato la morte del bidello avvenuto diverse ore prima del ritrovamento. Le cause della morte sono ancora da accertare. Si attendono gli esiti dell'autopsia e la ricostruzione degli eventi da parte degli inquirenti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Edder, Mech, Pallister!